Antonino De Francesco, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per raccontare il suo saggio pubblicato da Neri Pozza, Il Naufrago e il Dominatore, vita politica di Napoleone Bonaparte. Leggo una risvolta di copertina che Antonino De Francesco insegna storia moderna al Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano e specialista dell'età delle rivoluzioni, ma guarda con interesse anche alla storia del mezzogiorno. Certo, specialista delle rivoluzioni, e se non è stata una rivoluzione quella che ha fatto Napoleone Bonaparte, è una rivoluzione sicuramente su cui non si indagherà mai abbastanza Antonino De Francesco per entrare, per entrare dentro la storia che lei ci racconta in questo saggio che si sviluppa per circa 250 pagine, partiamo, partiamo dall'immagine di copertina. Noi quando pensiamo a Napoleone, pensiamo a quella immagine dove lui ha il cappello con la mano inserita nell'abito, mentre qui la ricerca iconografica ha percorso altri sentieri. Ci vuole raccontare questa figura tra l'altro del neoclassicista Andrea Piani? Sì, questa è una delle tante immagini di Bonaparte che ci ha consegnato Andrea Piani e riguarda appunto un Napoleone Bonaparte re d'Italia, si incoronò infatti nel Duomo di Milano nel 1805, in precedenza nella cattedrale di Notre Dame alcuni mesi prima era divenuto imperatore dei francesi. Ci sono tantissimi altri ritratti però di Bonaparte, alcuni quelli di Alpiani particolarmente interessanti perché pertengono alla stagione immediatamente antecedente, ossia quella alla quale lo stesso Bonaparte doveva le sue grandi fortune sulla scena pubblica, si intenda cioè la campagna d'Italia che tra il 1796 e il 1797 che lo portò a scombussolare gli equilibri geopolitici della penisola e a rappresentare per eccellenza la rivoluzione che giungeva appunto in Italia. E quindi ci sono delle immagini di Appiani di un giovanissimo Bonaparte, di un Bonaparte appunto condottiero, che sicuramente danno bene il senso della dimensione rivoluzionaria assunta dall'uomo nel momento in cui guidava le truppe francesi alla conquista o alla liberazione a seconda dei punti di vista, alla liberazione secondo il messaggio che portava direttamente Bonaparte delle regioni dell'Italia settentrionale. Da questo punto di vista qui con l'immagine di copertina siamo in un momento cruciale della dimensione pubblica di Napoleone Bonaparte, non è più diciamo Bonaparte, è semplicemente Napoleone, primo, imperatore dei francesi e re d'Italia. È già avviata una stagione alla quale il libro dedica una parte comunque significativa, ma non quella più importante, perché questo libro sostanzialmente pone l'accento soprattutto sulla prima stagione della vita politica di Bonaparte, che è una stagione per certi tratti poco evidenziata dalle ricostruzioni classiche, dalle ricostruzioni tradizionali che molto insistono invece sulla dimensione imperiale. Io vorrei rimanere, Antonino De Francesco, lei l'ha già sottolineato, il cambio del nome. Da Napoleone Bonaparte, quando era in Corsica, poi il cognome venne cambiato, non più Buonaparte ma Bonaparte, e poi c'è stato il terzo passaggio, ovvero semplicemente Napoleone. Ora, potremmo dire che sono dei passaggi normali, puramente estetici, puramente di definizione, ma qui oggi che noi ci beiamo tanto della parola storitelli in narrazione, mission, eccetera, eccetera, qui c'è un progetto di comunicazione importante, perché non è semplicemente un cambio di nome. Certo, qui ci sono tre passaggi, come lei ha puntualmente sottolineato, che meritano tutti di essere precisati. Allora, nasce Bonaparte, il cognome è Bonaparte, e rimane Bonaparte, in pratica, sino all'avvio delle operazioni militari in Italia. È soltanto quando riceve l'incarico di guidare la cosiddetta Meditalie, che decide di firmarsi diversamente, di togliere una U. In tutto questo vi era, per certi versi, la volontà di presentarsi alle truppe come un autentico francese. Avrebbe dovuto avviare una spedizione militare in Italia e non aveva a cuore di rappresentare presso le sue truppe il fatto che fosse sicuramente di origini italiane. Ma c'è anche dell'altro. C'è la presa d'atto, da parte di Napoleone Bonaparte, che il suo destino non è più ancorato all'isola natale, ossia alla Cossica, ma che ormai è orientato in maniera decisiva verso una dimensione francese. Da qui la necessità di cambiare cognome. Poi dal cognome si passa al nome, lì l'operazione è molto più semplice, perché nel momento in cui fonda una dinastia diviene Napoleone, appunto imperatore dei francesi, non di Francia, e successivamente re d'Italia. Imperatore dei francesi perché aveva sempre cura di sottolineare che questo impero che aveva fondato nel corso della seconda metà del 1844 non è un impero come tradizionalmente si poteva intendere, tipo ad esempio il Sacro Romano Impero di cui era detentore l'imperatore d'Austria, ma era invece un impero nato per volontà della nazione francese e ratificato da un plebiscito. Quindi era l'impero dei francesi di cui Napoleone cingeva la corona per esplicita e dichiarata volontà del popolo sovrano. In questo vi è un chiaro riferimento alla vicenda rivoluzionaria che lo aveva visto partecipe e sicuramente sostenitore. L'uomo cioè deve le sue fortune alla rivoluzione francese e la rivoluzione in quanto tale mai abbandonerà, mai abbiurerà. Anche quando diventerà imperatore lo farà sempre in nome e per conto di principi che erano stati stabiliti nel corso della vicenda rivoluzionaria. Quello che è importante sottolineare è che essendo nato nel 1769 cambiando il cognome nel 1796 quando ormai ha già 27 anni Napoleone in buona parte ha avuto tutta una prima parte della sua esistenza una prima parte anche pubblica nella quale non nascondeva anzi rivendicava la propria identità corsa anche perché per molto tempo prima di quel passaggio delle consegne dalla Corsica alla Francia che avrà luogo nel corso del 1793 aveva ritenuto che i suoi destini personali quelli della sua famiglia fossero in Corsica non fossero in Francia il titolo del suo saggio Antonino De Francesco ricordiamo saggio pubblicato da Neripozza è Il naufrago e il dominatore e da qui capiamo subito la sua la sua prospettiva di visione storica più dedicata più dedicata a quello che è non tanto il dominatore colui sul cui impero non travontava mai il sole e così via però ha un aspetto diverso come mai questa scelta Antonino De Francesco perché su Napoleone si è scritto tantissimo di Napoleone sappiamo più l'immagine che si sono fatta i suoi contemporanei e soprattutto i posteri che sono tornati su Napoleone da ancora azioni differenti con motivazioni ovviamente diverse mentre invece quello che a me premeva era cercare di fare una breve e lineare biografia politica dell'uomo il quale nasce sostanzialmente in un quadro antico regime rimane fortemente ancorato ad alcuni valori che erano propri dell'identità dell'antico regime la famiglia in modo particolare e poi sposa la causa rivoluzionaria credendo che questa possa restituire dalla sua famiglia un ruolo nella società di Corsica che aveva perduto causa la morte prematura del padre si accorge che questo non gli è possibile fare perché egli stesso con tutta la famiglia viene cacciato di Corsica nel 1793 nel pieno cioè della vicenda rivoluzionaria da un punto di vista politico le sue sorti sembrano improvvisamente naufragare e in ragione di questo cambia prospettiva diviene francese diviene patriota prima era stato patriota ma era stato soprattutto un patriota corso adesso diviene un patriota francese e sviluppa quindi una identità politica che è pienamente inquadrata in quella che è la cultura politica francese è interessante sottolineare come i primi anni di vita quando come dire viene inviato in Francia dal padre a fare studi di carattere militare egli ancora si sentisse corso pensasse addirittura di redigere una storia della Corsica che sarebbe stata una storia di una terra che aveva cercato la libertà e che la Francia aveva in qualche misura piegato invece ad una dimensione francese che egli rispingeva sarà soltanto con la delusione sfita in Corsica che si è raggiunto il momento di farsi francese ma siamo già nel 1793 e per i tempi l'uomo che ha 24 anni era già un uomo più che adulto ed era un uomo come dire che sembrava avere perduto le grandi occasioni della vita che in quegli anni brillantissime carriere militari qualora si fosse accettato il verbo rivoluzionario erano discervate noi adesso siamo abituati a pensare a 24 anni una persona e un bambino a 24 anni Napoleone buona parte perché ancora si firmava così riteneva invece di essere un uomo maturo che aveva perduto tutto quello per il quale negli anni precedenti aveva lavorato a 27 anni faceva già la campagna d'Italia quindi aveva già fatto un percorso era già era già sicuramente nella grande possibilità di dominio e quindi tenendo conto di questo lei diceva un ragazzo di 24 anni oggi è considerato quasi un bambino e invece a quel tempo pensare che a 27 anni già faceva queste cose è chiaro che si pensa si pensa subito ad altri condottieri per esempio Alessandro sicuramente può essere può essere considerato può essere considerato un esempio però vorrei ritornare sull'aspetto politico Antonino De Francesco perché il suo libro in maniera molto originale lo analizza da questo punto di vista lei poco fa parlava della sua attività politica l'idea dell'impero che è un'idea importante dell'impero secondo Napoleone Bonaparte che era un superamento dell'istituto monarchico altra cosa l'impero della monarchia e nello stesso tempo anche un superamento dell'istituto repubblicano tutto questo esercitava un fascino sul popolo ma dal punto di vista proprio di Napoleone Bonaparte del suo establishment poneva veramente uno schieramento anche qui se vogliamo di visione politica rivoluzionaria sì l'impero è una terza cosa è un terzium genus non è più una repubblica e non torna ad essere una monarchia è un superamento dell'una e dell'altra ed è una cosa assolutamente originale questa è la proposta che fa Bonaparte alla società francese una proposta che è preceduta da una politica che è conosciuta sotto il termine di ralliement cioè di coagulo di amalgama in base alla quale come prese il potere dopo il colpo di stato del Brumaio di fine 99 1799 si propose come un uomo di nessun partito come un uomo che voleva superare la divisione in partiti che aveva rischiato di perdere la rivoluzione e faceva appello a tutte le componenti della società politica francese da destra come da sinistra nel quadro di una proposta di governo che in qualche misura tutto tenesse assieme questa è l'esperienza iniziale di una repubblica consolare Bonaparte diviene primo console e poi si fa ratificare sempre con plebisciti il passaggio a primo console a vita nel 1802 e nel 1804 decide di fare un salto di qualità di fondare un impero sempre sulle stesse basi plebiscitarie che avrebbe dovuto dimostrare sostanzialmente il primato della nuova Francia nel contesto dell'Europa continentale perché non dimentichiamo che in tutta questa vicenda sin dalle origini vi è un nemico sempre presente sempre possente contro il quale Bonaparte muove che è rappresentato dal Regno Unito un Regno Unito che sin dal 1793 è entrato in guerra contro la Francia rivoluzionaria e che per un certo periodo di tempo ha anche occupato quella corsica dalla quale Bonaparte era stato costretto a fuggire e quindi per Bonaparte l'elemento inglese costituisce l'avversario per eccellenza non soltanto per la sua identità isolana inizialmente ma presto anche per la sua identità francese e non vi è possibilità di stabilizzare questo nuovo ordine neppure l'impero se non si regolano i conti con questo avversario micidiale che è appunto il vicino d'oltremanica lei comincia il suo saggio Antonino De Francesco parlando dei fallimenti di un patriota corso e l'analisi che lei svolge parlando di Napolone Bonaparte della sua famiglia dell'identità corsa che diventa anche un percorso molto psicologico per arrivare poi a comprendere spero di non sbagliarmi di arrivare poi a comprendere che uno degli errori che tra gli altri che ha commesso Napoleone era forse l'eccesso di familismo ora le chiedo questo eccesso di familismo è dettato è un'eredità di quel di quel di quel gruppo a clan di quel modo di intendere la famiglia il gruppo l'identità di quel tempo della Repubblica dell'isola di Corsica è proprio così che non è soltanto dell'isola di Corsica ma è di tutta la società d'antico regime di tutte le società mediterranee di antico regime è il secondo genito e quindi essendo il secondo genito avrebbe dovuto essere avviato al sacerdozio capiscono subito che il primo genito Giuseppe non è adatto invece per il mestiere delle armi e quindi il padre fa l'inversione dei ruoli però Giuseppe rimane sempre il primo genito e Napoleone nonostante avesse precisa cognizione di tutte le debolezze e di tutte le fragilità di Giuseppe lo considererà sempre la persona nei confronti della quale avrà un debito quindi quando muore il padre e li lascia come dire in una situazione molto difficile con il giovane buonaparte che ha circa 16 anni si ritrova improvvisamente a dover fare il capofamiglia e a dover badare alla famiglia pur non essendo più in Corsica ma essendo in Francia perché di lì a qualche mese sarebbe divenuto stato tenente e avrebbe avuto come prima destinazione quella di Osea da quel momento si vive sempre costretto a dover badare agli affari di famiglia di una famiglia che ha improvvisamente tutto perduto perché il fratello Carlo mi scusi perché il padre Carlo era stato un paolista ossia era stato un sostenitore di Pasquale Paoli e aveva combattuto l'invasione francese ma poi si era presto adeguato al nuovo ordine era divenuto filo francese e tutto questo aveva generato una sorta di scompenso nell'equilibrio e nell'immaginario politico del giovane Napoleone il quale faceva la scuola militare francese riservata appunto ai nobili francesi anche se francese non era lo era soltanto come nazionalità civile ma non come identità culturale e dall'altra parte aveva nei confronti del padre un rapporto complicato perché il padre era colui che nella sostanza prima era stato corso e successivamente si era invece ben trovato con i francesi il giovane Napoleone nei lunghi giorni di studio trascorsi prima a Briene e poi a Parigi invece si sente un corso vorrebbe scrivere una storia di Corsica che ne rivendichi l'anelito alla libertà e quindi vive malissimo questa doppia funzione partiamo dal presupposto che si va francesizzando studia in una scuola francese diviene culturalmente francese ma si sente ancora profondamente corso e in qualche misura rivendica questa sua identità fino a quando non saranno gli stessi Corsi nel 1793 a cacciare lui e tutta la sua famiglia dall'isola e a quel punto romperà formalmente i rapporti con questo sogno di una identità isolana ma fino a quel momento rimane profondamente ancorato ai valori tradizionali e vi rimarrà per quanto riguarda il rapporto con la famiglia fino agli ultimi giorni quando sente che ormai la sua vita si va concludendo e sa che non tornerà mai più in Francia chiede inizialmente di poter essere tumulato a Parigi presso quel popolo francese che aveva tanto amato ovviamente sa benissimo che non gli sarebbe stato consentito pensa allora in subordine di poter andare le sue spoglie possano raggiungere a Ianccio la cattedrale dove riposavano i suoi avi anche quello poi gli verrà negato da una logica ferrea che era quella di impedire che vi potesse essere un luogo di raccolta per tutti i suoi seguaci ma la famiglia rimarrà sempre per tutta la vita di Napoleone un elemento di confronto e anche di debolezza perché è una famiglia composta da tanti postulanti che continuano a chiedere 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 e nei confronti della quale non riuscirà mai a sottrarsi fino all'ultimo sarà il secondo genito chiamato quindi ad avere un rapporto di devozione di rispetto nei confronti del primo genito e dovrà sempre essendo quello che aveva avuto più fortuna badare alle sorti dell'intera famiglia e tutto questo da subito da quando muore il padre da quando ha soltanto 16 anni e si vede costretto a fare il capofamiglia questo saggio di Antonino De Francesco non è una ripresa delle vittorie non è una marcia continua con uno squilo di tromba una vittoria dopo l'altra ma attraverso già quello che lei diceva poco fa attraverso i naufragi personali i suoi errori le sconfitte riusciamo ad apprezzare ancora di più con questo sguardo che Antonino De Francesco ci propone in questo saggio riusciamo ad apprezzare ancora di più l'uomo e tutto ciò che ha fatto sia nella vittoria e ancora di più nella sconfitta mi viene in mente una frase che l'essi tempo fa a proposito di Napoleone spero di ricordarmela bene quando lui diceva che io non ho mai voluto piegare gli avvenimenti al mio sistema invece io piegavo il mio sistema secondo l'imprevisto degli avvenimenti ecco in questa frase possiamo trovare una certa ambizione sicuramente lui ne aveva è molto grande ma possiamo trovare anche una grande capacità diplomatica e qui torniamo all'aspetto politico che lei evidenzia in questo suo saggio Antonino De Francesco l'uomo era di una spregiudicatezza impareggiabile nel senso che sapeva cogliere le occasioni e a quelle adattarsi cercando in qualche misura di trarre il miglior vantaggio possibile tanto per dirsi era di un razzismo evidente tuttavia avrebbe fatto anche accordi con il governatore nero della colonia di Santo Domingo Toussaint Louverture se questi si fosse detto disponibile a riconoscerne la primazia era un uomo come dire che aveva profonda disistima nei confronti della nobiltà dell'aristocrazia di antico regime della quale tuttavia si sarebbe puntualmente servito riteneva cioè che in ogni determinata circostanza vi fosse la possibilità di trarre un diretto vantaggio per quello che era una sua immagine di Francia che ribadisco è quella di una potenza europea centrale da confrontarsi poi in una dimensione internazionale con il Regno Unito l'uomo però aveva di fondo un altro aspetto che lo connotava era un accannito lettore ovunque andasse lo accompagnava sempre il baule con i libri e sin da piccolo fino all'isola d'Elba il baule dei libri l'ha accompagnato dappertutto anche quando tornava in Corsica ogni anno prendeva dei lunghi congedi quando era un giovane ufficiale in Francia prendeva dei lunghi congedi che poi gli valsero anche la radiazione perché a un certo punto non si presentò più nel tempo dovuto e quindi venne ufficialmente radiato salvo poi essere recuperato perché la situazione della Francia in guerra con l'Austria tra il 1792 e il 1793 era così precaria che non si doveva andare troppo per il sottire e un ufficiale del genere che aveva fatto addirittura la scuola di artiglieria e che quindi era considerato uno dei più brillanti ufficiali di cui disporre venne subito recuperato venne subito reintegrato ma di fondo era un accanito lettore e aveva fatto letture plutarchee quindi a suo avviso i punti di riferimento dovevano essere i grandi condottieri della storia altri non aveva tant'è che il suo abbandono anche della fede religiosa è dovuto a questo trovava da giovinetto Adrienne del tutto inconcepibile che personaggi di grande rilievo come Alessandro Magno o Giulio Cesare dovessero stare nel limbo soltanto perché non avevano avuto la fortuna in qualche misura di conoscere la vera fede da questo punto di vista partiva dal presupposto che la sua fosse una vita da porre a confronto con queste grandi figure erano gli uomini illustri quelli a cui si doveva guardare nella propria identità personale e questo lo avrebbe sempre accompagnato il convincimento cioè di essere un personaggio chiamato non alle armi quanto alla politica anche delle armi il suo punto di riferimento sostanzialmente era stato inizialmente Pasquale Paoli un uomo che aveva fondato la nazione corsa e che era stato abile non soltanto sul terreno militare quanto sul terreno civile il suo punto di riferimento al quale guardò con grande simpatia era Giorgio Washington un soldato che poi aveva assunto anche la dimensione di padre dei giovani Stati Uniti ne era stato il primo presidente il punto di riferimento nell'immaginario politico di Napoleone Bonaparte proprio questo era un uomo che era tanto soldato quanto civile un uomo che sapeva unire il potere delle armi con il potere civile dove il potere civile cioè la politica finiva per essere nettamente preferibile anche dal suo stesso punto di vista quello delle armi quindi un Napoleone soldato in quanto tale insistere soltanto sul suo genio militare sulle sue straordinarie capacità di sconvolgere gli schieramenti avversari sul terreno di battaglia sarebbe molto limitativo dell'uomo l'uomo non si sentiva un soldato soltanto era anche un soldato ma non solo un soldato e in primo luogo era altra cosa era un condottiero dove per condottiero si possono intendere molte cose non soltanto sul terreno militare mi è stato fatto notare che ho commesso un errore intendevo dire l'isola di Sant'Elena e invece mi è sfuggito l'isola d'Elba ma in verità errore in parte perché anche lì l'ha raggiunto il baule dei libri perché l'isola di Sant'Elena dopo la sconfitta credo di Lipsia lui ha avuto un esilio momentaneo alcuni mesi e nessuno nessuno all'isola d'Elba o in Italia era a conoscenza del fatto che Napoleone lì era in esilio anzi era un grande ospite ben gradito e lui ha passato alcuni mesi in esilio per poi ritornare e poi c'è stato il grande esilio all'isola d'Elba in che modo Antonino De Francesco noi possiamo dire in questi giorni 200 anni dalla morte con Lode Manzoniana e i fusi come immobile tra l'altro lei l'ha studiata a memoria a suo tempo a scuola questa poesia eh sì da noi era obbligatoria io sono un signore anziano e quindi come dire era una di quelle poesie che si dovevano mandare a memoria sì ecco vediamo vediamo proprio questa poesia da un punto di vista seguo la traccia dell'aggettivo politico questa poesia è fortemente politica perché Alessandro Manzoni non è che ha scritto questa poesia poi l'ha subito pubblicata l'ha mandata alla visione della censura come era obbligo e questa ha fatto le sue correzioni quindi l'aspetto politico manzoniano era fortemente presente in quest'ode non c'è dubbio non c'è dubbio ma d'altronde Alessandro Manzoni nasce con un forte profilo politico è vicino ai circoli milanesi che avevano guardato con straordinario interesse all'arrivo di Bonaparte frequenta quelli che sono i circoli più fortemente napoleonici nella Milano del tempo e sostanzialmente dovrà proprio questo suo apprendistato giovanile alla politica la dimensione unitaria che poi avrebbe tenuto per tutta la vita la sua forte attenzione verso l'unità della penisola gli deriva proprio da questa esperienza giovanile nei circoli napoleonici di Milano un tratto che lo avrebbe contraddistinto fino all'ultimo giorno della sua vita e quindi è un uomo che è rimasto fortemente segnato dall'esperienza politica napoleonica in Italia e questo è il motivo per il quale il 5 maggio del 1821 anche per Alessandro Manzoni come per moltissimi altri in tutta Europa è una data di rimente finisce l'esperienza personale di un uomo che aveva stravolto gli equilibri europei non è assolutamente vero che avesse alla mente l'unità d'Italia come poi in qualche misura attraverso i suoi ricordi a Sant'Elena avrebbe Napoleone Bonaparte lasciato credere ma è certo che si proponeva di rivoluzionare completamente la penisola italiana assicurandoli un passaggio alla modernità politica che soltanto con la forza delle armi soltanto dalla Francia era stato possibile procurarle in questo quadro di profondo rinnovamento politico culturale è il giovanissimo Manzoni il quale Manzoni poi dedica con il 5 maggio un commosso ricordo all'uomo che aveva segnato la nuova stagione politica del suo paese e volevo chiedere poco fa poi la domanda è virata su altro Antonio De Francesco qual è al di là di questo anniversario della morte di Napoleone Bonaparte qual è la modernità che possiamo sentire oggi oggi che si parla di Europa e l'idea europea di Napoleone era anche fortemente presente sì però è un'idea di dominio cioè la certezza che l'Europa continentale sotto il segno della potenza francese debba costituire il perno con il quale può confrontarsi con il Regno Unito che domina i mari domina i commerci atlantici domina i commerci transoceanici in una dimensione appunto di più ampio respiro era un nemico ancora nettamente in vantaggio quindi da questo punto di vista Bonaparte che cosa rappresenta rappresenta una volontà di dominio sua personale nei confronti di un nemico storico che è rappresentato appunto dal Regno Unito ma non pone problemi di unità europea queste sono cose che costruisce l'impero dei francesi comprende ampie porzioni di territorio che non sono soltanto della Francia ma è come dire fondato puntualmente sulla primazia francese la verità vera è che Napoleone Bonaparte non dovrebbe godere di ottima stampa di questi tempi non fosse altro perché di lui si dice che è il fondatore del centralismo di governo dell'accentramento di governo cioè l'uomo che in qualche misura avrebbe definito le regole di una identità amministrativa che ha costituito poi oggetto come dire di critica perlomeno negli ultimi decenni ultimamente come dire mi sembra anche anche purtroppo in ragioni di quello che ci è recentemente accaduto essere presente nella società italiana il tentativo di chiedere che le cose vengano come dire in qualche misura tra virgolette centralizzate ma questa è una questione degli ultimissimi mesi in precedenza l'esperimento di governo napoleonico era considerato un esperimento da respingere e per certi versi questo questo è vero nel senso che sicuramente l'accentramento di governo napoleonico ha finito per fare tabu avasa di tutte quelle che erano le peculiarità le specificità del territorio che adesso vengono viste come un valore ma che all'epoca erano considerate invece come il luogo di raccolta dei privilegi il luogo di raccolta cioè di tante peculiarità sulle quali si era costruita la società e la statualità di antico regime quindi quando noi pensiamo a Napoleone Bonaparte nei termini di un antesignano dell'oggi commettiamo a mio avviso un grosso errore Napoleone Bonaparte ha costruito l'Europa dell'Ottocento un'Europa che poi ha commesso suicidi in occasione di una guerra mondiale per quanto riguarda il Novecento il discorso è molto differente quello che fa sì che dopo duecento anni ancora lo si ricordi in maniera per certi versi stordita è proprio la grande fortuna che l'uomo ha saputo avere presso le generazioni successive i posteri hanno continuato a guardare a Napoleone Bonaparte come all'uomo che meglio di ogni altro rappresentava la modernità ai posteri l'ardua sentenza Antonino De Francesco autore del libro Il Naufrago e il Dominatore vita politica di Napoleone Bonaparte pubblicato la Neri Pozza prima di salutarci invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? in questi giorni sto leggendo una breve storia della rivoluzione di Santo Domingo di Haiti ed è una lettura che vado facendo anche per motivi di lavoro che è appena stato tradotto in italiano da Enaudi l'autore Jeremy Popkin anche perché come dire è un tema che mi sta molto a cuore proprio per le vicende napoleoniche perché appunto nella colonia di Santo Domingo Napoleone conosce la più drammatica delle sconfitte il suo esercito che era inizialmente guidato dal cognato il marito di Paolina Bonaparte il generale Leclerc viene sconfitto da questa rivolta di ex schiavi e lì comincia da un certo punto di vista il declino politico di Bonaparte perché la sconfitta nell'isola caraibica di Santo Domingo l'attuale Haiti fa sì che il suo sogno di un impero americano svanisca fa sì che debba concentrarsi soltanto sull'Europa e quindi lo convince del fatto che c'è bisogno di rilanciare al tavolo della statualità attraverso la nascita dell'impero grazie grazie davvero Antonino De Francesco per il tempo che ci ha dedicato buona giornata grazie a voi è stato un piacere e alla prossima grazie buongiorno happy happy grazie a tutti